La Farmacia Dante di Cesano Maderno è uno spazio ampio e luminoso che invita piacevolmente la clientela a muoversi in libertà attraverso i vari reparti. Troverai personale altamente qualificato e sempre disponibile a consigliarti e ad ascoltare le tue esigenze. A tua disposizione una innovativa area beauty dotata di macchinari d'avanguardia per rilassarti e recuperare energia. Farmacia Dante, l'esperienza e la cortesia di sempre, con qualche servizio in più.